buongiorno da ravello siamo qui per il concerto all'alba le porte sono già aperte buongiorno un attimino solo dovrei ritirare gli accrediti da lei buongiorno 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 Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Buongiorno, saluti e bentrovati qui dalla piazza del Duomo di Ravello per raccontarvi questo evento straordinario, 11 agosto 2024, concerto all'alba dell'eccellenza di Ravello. I cancelli sono aperti, mancano pochissimi minuti, ci accingiamo al passaggio. Buongiorno. 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 Grazie.